Comunità energetiche, soluzione efficace per abbattere i costi delle bollette dei sardi. Ce ne parla nel servizio Bebo Madeddu. Il tema tanto dibattuto della speculazione energetica ha fatto senza dubbio infuriare il popolo sardo che rivendica a ragion veduta la salvaguardia del bene paesagistico. Il tema sull'energia è entrato in tutte le case dei sardi, per dire sì alla transizione e per dire no alla speculazione. Neanche la soluzione di individuare le zone idonee pare placare gli animi, così come la legge Pratobello accende il dibattito sulla sua efficacia giuridica. Noi siamo convinti che questa nostra proposta di legge, finalizzata alla realizzazione delle comunità energetiche attraverso l'azionariato diffuso tra imprese sardi, famiglie e istituzioni, sia la risposta alla reale preoccupazione dei sardi. La domanda più frequente resta sempre la stessa. Cosa rimane ai sardi dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili? Questo provvedimento dovrà essere lo strumento per iniziare ad invertire la tendenza affinché i sardi non dipendano più da altri ma possano essere più sovrani in questa terra. La comunità energetica, esempio di successo già testato in altri paesi, risulta la soluzione efficace per abbattere i costi delle bollette dei sardi e nel contempo dar modo ai sindaci di decidere per i propri territori.